Prosegue la campagna di vaccinazione degli over 80, degli ultra settantenni e delle persone con elevata fragilità grazie alla consegna attesa di 136.670 dosi di vaccino complessive da parte di Pfizer-BioNTech, ma anche AstraZeneca e Johnson & Johnson, così come confermato dal presidente della regione Eugenio Gianni che con un post su Facebook ha annunciato che anche agli estremamenti vulnerabili verrà somministrato Pfizer. Da questa settimana, annuncia Gianni, gli estremamente vulnerabili riceveranno anche le dosi Pfizer oltre a quelle moderna già destinate. Appena arriveranno a metà settimana le nuove dosi di AstraZeneca e Johnson & Johnson, riapriremo anche il portale per la fascia 70-79 anni. Già consegnate 21.000 nuove dosi Pfizer-BioNTech in via straordinaria, alle quali si aggiungeranno le 94.770.000 dosi attese per mercoledì 14 aprile, per un totale complessivo di oltre 115.000 vaccini Pfizer destinati agli over 80 e non solo. Di queste 17.000 dosi saranno somministrate per la prima volta insieme a Moderna anche agli estremamente vulnerabili, prioritariamente tra i 70 e i 79 anni, per accelerare la vaccinazione di due categorie di persone più esposte ad ammalarsi di Covid. La nuova fornitura di 9.900 dosi prodotte da AstraZeneca è attesa per a mercoledì 14 aprile. Questa nuova consegna consentirà di proseguire con la vaccinazione degli over 70. E poi Johnson & Johnson, il quarto vaccino, a ricevere la raccomandazione da parte dell'Agenzia europea per i medicinali EMA e della Commissione europea per essere utilizzato contro il Covid. In Toscana questo vaccino monodose dovrebbe arrivare per la prima volta giovedì 16 aprile, attesa la consegna di 11.000 dosi che saranno utilizzate per le persone over 70.